È dal 2015 che l'ASET mette a disposizione dei fondi, che poi venivano integrati di volta in volta dall'amministrazione comunale, per sostenere le famiglie e le aziende poste in difficoltà dalla crisi, fondi che ammontavano a un minimo di 200.000 euro da ripartirsi tra i comuni soci. In totale è stato erogato un milione di euro. È ovvio che la fetta più grossa, pari al 55%, fosse consegnata ai servizi sociali del comune di Fano, in base al criterio oggettivo della ripartizione, in base al numero degli abitanti. Nel tempo, dal 2015, il comune di Fano, solo per quanto riguarda l'igiene ambientale, ha ricevuto oltre 450.000 euro. Di questi, al momento, sono nella disponibilità dell'ente locale oltre 150.000, per procedere poi all'abbattimento delle bollette del servizio ambientale, in base all'Isee, ovvero alla capacità reddituale degli utenti. In più, sono stati messi a disposizione 35.000 euro a discrezione dei servizi sociali per sopperire a singole necessità. Nel 2022 sono stati erogati dall'ASET 22.000 euro per sostenere le famiglie in carico ai servizi sociali nel pagamento delle bollette dell'acqua. In totale, 60 famiglie che hanno ricevuto da un minimo di 35 a un massimo di 390 euro, più poi 6.500 euro a scompito dell'Atari, per 33 nuclei familiari che hanno percepito da un minimo di 25 a un massimo di 445 euro. Il tutto è avvenuto nell'ambito di un percorso in cui i servizi sociali hanno accompagnato l'utente verso la riconquista della sua indipendenza economica. Per il 2023 sono a disposizione 97.000 euro per le bollette dell'acqua e 35.000 per le cartelle dell'Atari. Le cifre poi verranno incrementate da contributi per l'Atari che verranno erogati tramite avviso pubblico. Il compito nostro è quello comunque, insieme ai servizi sociali, di capire se ci possono essere delle problematiche inerenti al Comune di Fano e ai Comuni Soci per quanto riguarda determinate necessità. In particolar modo oggi parliamo di Tari e quindi già dal mese di giugno dell'anno scorso avevamo stabilito una somma proprio per supportare chi aveva delle difficoltà nel pagamento dell'Atari che andava equamente divisa pro capite per tutti i Comuni Soci, quindi non parliamo solo di Fano, parliamo anche degli altri Comuni. Oggi andiamo a riconoscere circa 150.000 euro da poter essere utilizzati con le modalità che i servizi sociali chiaramente sanno benissimo come utilizzare, quindi il metodo da utilizzare e tutto il resto perché noi non ci occupiamo di quello, ci occupiamo solo della messa a disposizione delle risorse che andranno sicuramente a desevolare i cittadini che hanno delle difficoltà nel pagamento dell'Atari o per altre problematiche. Da parte sua il Comune di Fano ha ricevuto contributi statali che sono stati finalizzati soprattutto per il sostegno alimentare, oltre a quello del canone di locazione, integrato quest'ultimo da fondi comunali, e per il pagamento delle utenze domestiche. In totale sono stati distribuiti per utenze domestiche e non domestiche 2 milioni di euro. Per il corrente anno si parte dai fondi messi a disposizione di Aset per predisporre nuove soluzioni che troveranno una prima definizione nella prossima manovra di bilancio che verrà portata in approvazione nel Consiglio Comunale di inizio marzo. Noi come servizi sociali utilizziamo per le famiglie in carico, quindi per quei nuclei che sono in disagio socio-economico e che sono seguiti dal servizio sociale professionale e che appunto da quanto ci è stato comunicato da Aset alla fine del 2022 per il 2023 sono in incremento e proprio perché vengono meno risorse nazionali. Quindi anche in quella previsione saranno importanti per cercare di accompagnare quelle famiglie verso una progressiva autonomia e un sostegno che per certe situazioni di crisi che stiamo vivendo è fondamentale.